Amici 3B Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì. Chi vedrà ancora condizioni meteo estive sull'Italia, la pressione atmosfeca resta alta sul nostro paese, tratto per un bel po', non sono attese nuove perturbazioni. Controlliamo intanto la nuvolosità prevista dalle nostre parti, ben poco da segnalare, qualche nuvolamento potrebbe insistere sulla fascia pedemontana, specie in Piemonte, però in realtà senza grandi conseguenze. Infatti se guardiamo le precipitazioni previste da noi, nulla da segnalare, la situazione resta tranquilla, magari appunto qualche gocciolina di pioggia a ridosso delle zone montuose piemontesi. Quindi in definitiva ci attende un martedì da piena estate in tutta Italia, cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola abbiamo detto a ridosso delle zone montuose al nord-ovest e temperature per il momento si estive, ma non eccessivamente alte, però attenzione a partire da mercoledì e spostandoci poi verso il fine settimana, il caldo tornerà a essere davvero protagonista. Per sapere nel dettaglio che temperature si raggiungeranno anche da voi, scaricate l'app di Trebi Meteo.